Rinnovate le cariche di Lega Ambiente Campania, alla presidenza riconfermato Michele Bonomo, ad Antonio Gallozzi la carica di direttore e Anna Savarese vicepresidente regionale. Nominato anche il nuovo direttivo regionale e i delegati campani che parteciperanno il prossimo 13, 14 e 15 dicembre a Milano al Congresso Nazionale di Lega Ambiente. Intanto nello stesso weekend la delegazione di Lega Ambiente Cava ha dato vita all'iniziativa Puliamo il Mondo, organizzata in collaborazione con l'assessorato comunale all'ambiente. Studenti, famiglie e cittadini volenterosi hanno preso d'assalto la località Pineta la Serra per offrire il proprio contributo muniti del kit di cappellino e guanti fornito da Lega Ambiente e con gli attrezzi necessari messi a disposizione dalla Metellia Servizi. Una piacevole giornata baciati da un caldo sole novembrino, conclusasi con la soddisfazione di essere stati artefici di un atto d'amore verso l'ambiente. Grazie a tutti.